Cecchini si avvicinano le vacanze, arrivano i turisti, qual è la situazione nei nostri alberghi? Allora siamo tutti pronti per questo esordio di Pasqua perché in fin dei conti già abbiamo avuto un ottimo lavoro con gli eventi sportivi, abbiamo riempito diversi alberghi, sono stati molto contenti, la gente ha parlato molto bene della nostra città con un riscontro naturalmente che verranno qualcuno anche in vacanza. Quello che vediamo a Pasqua ci sono diverse pronotazioni, si stanno vedendo anche gli stranieri che era da anni che non li vedevamo per il corso oppure negli nostri alberghi. Quello che è importante in questo momento è il tempo, se avremo delle giornate bellissime io penso che la gente si fermi perché faranno un discorso itinerante, non è il turista che pronota ma è il turista che viene, vede la bella città e si ferma. Questo è molto importante, ci sono diverse novità per questa fine settimana che è la settimana di Pasqua, intorno a noi sta girando parecchia gente ma quello che avremo un esordio è a maggio con gli eventi sportivi perché l'8, 9, 10 e 11 di maggio ci sono tantissimi eventi tipo la Colle Marathon, il campionato di paracadutismo e di riflesso avremo il raduno degli alpini a Rimini e sta portando molta gente anche nelle nostre zone.